In cetta di medaglie al campionato interregionale di Celano, in quel dell'Aquila, gli scorsi 19 e 20 di novembre, insomma avete portato quanti atleti e quante medaglie avete portato a casa? Abbiamo portato 8 dei nostri migliori atleti tra il sabato e la domenica. Abbiamo fatto 6 ori, un argento e un bronzo. Avete praticamente vinto tutto voi? Abbiamo sbaragliato un po' la concorrenza, ovviamente nelle cinture colorate, quindi nei gradi un pochino più inferiori rispetto alle nere, però insomma è stata una giornata di vero sport e di grandissima competizione e di altissimo livello. La giornata di sabato abbiamo vinto 5 ori e un bronzo e abbiamo guadagnato la coppa della terza società al campionato. Voi pensate soltanto che il primo classificato ha fatto soltanto un oro in più portando 40 atleti, quindi diciamo che oltre a darci un'immensa gioia, questa coppa ci dà anche una certa sicurezza sulla strada che stiamo perseguendo perché stiamo facendo un lavoro di grandissima qualità. Senti, bravi gli atleti ma bravo anche chi li allena e chi li sceglie ma non nel senso brutto della parola perché poi tutti i ragazzi sono bravi, però ci saranno quelli più o meno portati anche ad affrontare la gara perché poi lì si interviene anche il fattore psicologico. Certo che sì, infatti abbiamo creato dei percorsi per i giovanissimi e per i ragazzi, per gli atleti un pochino meno esperti. Infatti ai ragazzini che sono arrivati a poco tempo abbiamo costruito dei meeting apposta per loro in modo che piano piano, step dopo step, imparino senza creare paure o ansie. Cerchiamo di portarli gradino dopo gradino ad imparare a combattere, mentre usciamo soltanto fuori regione con gli atleti che oramai sono due o tre anni esperti in palestra. Si parla di esperti ma di quanti anni? Si parla di esperti di anni che vanno dai 7 ai 12-13 anni, questi sono i ragazzi che abbiamo portato. Cosa c'è nel futuro, quali sono le prossime gare? La prossima gara che ci aspetta sarà in salita perché sarà l'appuntamento del 28-29 gennaio all'Insubra Cup a Varese che è un campionato internazionale. Quindi lì sarà veramente dura riuscire ad arrivare a podio, non dico neanche l'oro perché l'oro sarebbe un sogno immenso, però noi siamo già al lavoro per questa data. Quindi faccio un in bocca al lupo a tutta la mia squadra e speriamo di raggiungere questo sogno.